Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Torna a parlare uno degli ex obiettivi di Mercato Gigliati Atem Benarfà Con tanto di frecciatina alla Fiorentina Dopo l'approdo in Toscana di Ghezzal Sono senza squadra Ma i progetti che mi avevano presentato non mi piacevano Queste le parola del francese ex PSG Chi invece approva in pieno la sessione di trasferimenti Viola E il noto agente Furio Valcareggi Attribuendo un 9 in pagella alla prima campagna acquisti dell'area commisso Intanto la nazionale di Mancini è giunta in Armenia Dove domani nel tardo pomeriggio affronterà i padroni di casa Nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati europei Chiesa probabile titolare nella testa del C.T. Azzurro Nuova avventura bulgara intanto per l'ex attaccante gigliato Valery Bozinov Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Viola Tweet